Vai! Allora, il cane si porta al consacro, la mano è filata nella maniglia, giro, collice e giro, sempre ed esclusivamente così. Lei anche, giro, collice, e si tiene 10 metri di distanza da un gruppo di cani all'altro. Loro stanno vicini perché si conoscono. Si esce velocemente, perché sennò loro si nervosiscono, non andando a contatto con le reti perché sennò litigano. Bisogna fare attenzione di chiudere sempre tutti i cancelli, quindi quello di là e tutti quelli di là, perché basta un cane che scappa ed è un disastro. Poi l'altra cosa è che quando si entra in un box, anche quando si entra nel cancello per radio, bisogna sempre chiedere l'ok. Quindi prima di anche mettere la mano sulla porta del cancello, si chiede posso entrare per radio, radio che tutti devono avere. Posso entrare solo quando c'è la risposta, chi entra, si entra. La stessa cosa va fatta quando si manovra un box. Prima di aprire un box si chiede posso entrare nel box? Perché? Perché se tu stai tirando fuori un cane, lei ne sta tirando fuori un altro, attacca un cane, e qui da qua dentro scappa tutti di me, e chi c'è nel box ancora? Grazie. 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 Grazie.